Come si dice con l'attacco stellare, però noi abbiamo anche una difesa altrettanto valida, abbiamo pure noi attaccanti validi, per cui la tranquillità ce l'abbiamo. Poi naturalmente è chiaro che giochiamo con una strada forte, giochiamo fuori casa, quindi tutto è possibile, ma comunque non sarà certo il procedia per dire se siamo bravi o meno bravi. La parola scudetto è stata sdoganata, perché ne hanno parlato alcuni giocatori in questo settimana, ti senti di dire la stessa cosa? Io sono contento che i miei giocatori siano consci delle loro potenzialità e della loro forza, per cui trovo anche giusto che un atleta giochi solo e esclusivamente per vincere, per vincere il massimo titolo. Ovviamente noi dirigenti dobbiamo stare un pochino più cauti, per cui è ovvio che sono condivisibili le parole dette anche da Pradè, ma io credo che ad oggi abbiamo dimostrato fino a questo punto che la squadra è all'altezza di disputare un campionato da protagonista.